Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono 4 km di coda per un incidente tra Aglio e Calenzano verso Firenze. Per traffico troviamo inoltre code in uscita a Firenze Sud e a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Sulla Firenze Mare i rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivia 11 e 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipilico di attratti per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Arriviamo al traffico urbano del capoluogo rallentamenti sulla direttrice via Pisana, piazza Taddeo Gaddi, porta al Prato, fortezza da basso, via Leredi. Traffico sostenuto anche su via Bolognese e su via Marco Polo. Prima di salutarci ricordiamo che per oggi 8 marzo Festa della Donna è stato proclamato uno sciopero generale contro le forme di violenza di genere che coinvolge anche aerei, bus e treni. I dettagli sulle modalità di adesione e sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!